In gennaio del 2007 è uscito questo libro, del quale tu sei coautrice, insieme al professor Luigi Samoggia, da che porta il titolo San Michele Arcangelo di Ganzanigo, 1906-2006, quindi si festeggia il centenario di questa bellissima chiesa, di cui poi ci parlerai un pochettino dopo. Per iniziare, per introdurre, mi farebbe piacere leggere due righe scritte dal cardinale Carlo Caffarra, che è l'arcivescovo di Bologna, che apre in questa maniera, in occasione del centenario della costruzione della chiesa parocchiale, la comunità della parrocchia di San Michele Arcangelo di Ganzanigo ha voluto preparare una documentazione scritta di carattere storico. A questo si aggiunge il parroco della chiesa di Ganzanigo, Don Gaetano Menegozzo, che è parroco da quanti anni? Da 24. Da 24 anni. Anche lui ci dice che ripercorrere la storia ormai centenaria è ritrovare le nostre radici più profonde e più vere, nel grato ricordo di coloro che tanto si sono impegnati nelle difficoltà dei tempi e nelle angustie economiche. Perché Ganzanigo potesse avere un luogo sempre più degno che rappresentasse se stessa, testimoniando la propria fedeltà al deposito ricevuto. Ci racconterai poi tutta quella che è la storia del contesto sociale che gira intorno alla costruzione di questa bellissima chiesa. Tu, ho detto, sei coautrice del lavoro insieme al professore Luigi Samoggia e ha partecipato anche il signor Silvano Piazzi per quanto riguarda la fotografia. Troverete nel libro delle bellissime immagini che si riferiscono alla chiesa e a ciò che è contenuto nella chiesa. In che cosa consiste il tuo saggio? Come ce l'hai presentata, insomma, da questa chiesa? La parte che ho trattato, appunto, come dicevi prima, ha un carattere prevalentemente storico. Infatti parte dai primi documenti, quindi da quando fu costruito il castello. Fu fatto fortificare da parte di Bologna questo castello proprio in Ganzanigo. E anche se era vicino al castello di Medicina, fu fatta la scelta da parte di Bologna e di costruirne entrambi a difesa dei suoi confini. Fino alla sua distruzione nel 1337 e successivo inglobamento del territorio di Ganzanigo a quello di Medicina, appunto adesso ammesso, e al territorio di Villafontana. Insieme si costituivano un territorio molto, molto vasto. Infatti Bologna tentera più volte di spezzare questa loro unione in quanto rafforzava molto il suo potere su questo territorio così vasto. E portando avanti le mire espansionistiche di Villafontana, Ganzanigo invece non ebbe mai forti mire espansionistiche e si aggregò molto tranquillamente alla vicina Medicina. Quindi Ganzanigo dove si trova? Nella provincia di Bologna, appunto come dicevo sotto il comune di Medicina, attualmente, verso Ravenna, infatti è il confine con la provincia di Ravenna. Quindi praticamente in questo paese appunto di Ganzanigo le vicende vengono trattate fino al periodo della Seconda Guerra Mondiale e all'impegno sociale dei suoi abitanti sul territorio prima e dopo. C'è una storia anche di tipo sociale dietro alla costruzione proprio di questa chiesa, se non sbaglio. Ce lo puoi raccontare? Perché io leggevo delle cose estremamente interessanti. Magari si parlava delle lotte contadine alla resistenza nella seconda metà del 1800. Dice, si formarono nel comune di Medicina associazioni di difesa dei lavoratori per tutelarli in caso di malattia, le cosiddette società di mutuo soccorso. Ce ne puoi parlare un pochino? Sì, praticamente in parallelo a ciò che avveniva in Europa in quel periodo anche nello stesso Ganzanigo risentì di questo influsso e molti si mossero sia dal punto di vista delle associazioni femminili che maschili. Non fu solamente un movimento prevalentemente maschile ma anche le donne furono interessate a questi movimenti in difesa dei lavoratori in quanto sia Ganzanigo che Medicina sono zone di palude adesso attualmente bonificate per cui coloro che i braccianti che andavano a bonificare queste terre vivevano in condizioni non propriamente degne di essere tali, erano più che altro trattati quasi come merce. Di conseguenza molte associazioni si mossero in difesa di questi lavoratori e parimenti in Ganzanigo fu anche costruito un magazzino per dare aiuto e supporto a quei braccianti che invece non si potevano permettere a causa anche dei salari molto ridotti di poter avere una casa, il cibo necessario insomma al loro sostentamento pertanto proprio un magazzino che potesse essere un giorno un po' da granaio di supporto a queste persone. Queste società di mutuo soccorso fino a quando hanno resistito? Fino al periodo delle guerre mondiali e Ganzanigo era prevalentemente socialista infatti tra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale furono molto bastonati proprio nel vero senso della parola in quanto vennero, molti dei loro esponenti venivano proprio materialmente bastonati picchiati, addirittura alcuni vennero anche uccisi così che fungessero da esempio per gli altri e infatti alcune delle attuali vie di Ganzanigo prende proprio il nome da tali personaggi morti per la loro difesa. Tu fai un riferimento all'ultimo caposaldo socialista che il fascismo volle abbattere, fu la cooperativa di Ganzanigo il proprietario fu barbaramente picchiato e il suo locale distrutto e incendiato questo nel periodo? Prima e precedente alla seconda guerra mondiale Dopo la seconda guerra mondiale invece? Dopo la seconda guerra mondiale ripresero man mano e tutte quante riaffiorarono tutte le associazioni e anche dal punto di vista cattolico cristiano ci furono interesse verso un'apertura verso l'aspetto sociale della vita della comunità infatti alcuni parrocchiani di Ganzanigo fondarono in Ganzanigo e Medicina l'associazione Acli in difesa dei lavoratori per portare sostentamento e anche per insegnare ad avere un lavoro degno e preparato non essere solamente dei puri strumenti per dare quindi questa prospettiva Dai tuoi racconti mi sembra che gli sia una sorta di somiglianza con ciò che sta accadendo attualmente nel Sud America in particolare in Brasile nelle ragioni dei Senterra per esempio oppure in Messico si parla del movimento zapatista di queste comunità in qualche modo autogestite che tendono a superare quelli che sono i disagi del sociale procurati dal sociale comunque da un sociale che non tiene in considerazione la povera gente o comunque la gente come dice il subcomandante Marcos senza voce e senza volto la percepisci anche tu questa somiglianza? Sì assolutamente ovviamente dopo questo primo momento ecco di somiglianza c'è stato il boom economico che insomma mi auguro possa poi avvenire anche per queste popolazioni ce l'auguriamo tutti magari in maniera un pochettino differente da come è avvenuto qua da noi mantenendo questo aspetto umano ma ecco mantenendo l'aspetto umano che sarebbe la cosa più importante dunque tornando alla chiesa visto che il libro poi gira intorno alla costruzione di questa chiesa cosa ci sta dietro alla costruzione di questa chiesa? perché è stato un caso in qualche modo? beh innanzitutto devo premettere che San Michele di Gazzanico non era inizialmente una parrocchia in quanto il territorio era così vasto che erano state costruite cinque chiese in Gazzanico e San Michele era un monastero appartenuto ai frati benedettini neri cioè quelli che si attenevano in maniera più stretta alla regola di San Benedetto quindi avevano all'interno della loro giornata l'orario scandito in sette ore di preghiera sette ore di lavoro e momenti per il riposo ecco particolare attenzione la dovevano dedicare anche agli ammalati ai bambini ai poveri ai viandanti infatti anche in Gazzanico fu costruito un ospitale appunto per portare avanti questo aspetto nei confronti delle persone più deboli dei quali non è assolutamente rimasta traccia non si sa dai documenti né dove fosse e né dove se fosse vicino alla chiesa si sa solo che c'è stato esatto che c'era questo ospitale dedicato a Sant'Antonio e nulla di più e successivamente però il monastero fu passato a parrocchia questo anche perché le altre chiese che erano Santa Maria, San Giacomo, San Giovanni e Santa Croce man mano scomparvero e di questo ne abbiamo la prova dagli estimi ecclesiastici nei quali attraverso i secoli viene si vede la loro progressiva scomparsa di conseguenza una volta anche rimasto solamente San Michele e destituito dall'essere monastero vi fu il passaggio a parrocchia questo avvenne circa nel 1550 attorno a quel periodo da quel momento si sa solamente di San Michele e non di altre parrocchie San Michele fu destituito da monastero in quanto le regole fondamentali dei frati benedettini venivano non rispettate di conseguenza il vescovo in quanto il territorio di Canzanigo apparteneva dal punto di vista ecclesiastico al capitolo di Bologna quella che adesso chiameremo diocesi di Bologna e il vescovo di Bologna stabilì la sua la sua chiusura chiusura sì assolutamente quando risalgono i primi documenti? al 1200 fine 1100 e 1200 da dove deriva il nome? di Canzanigo sì e il nome Canzanigo ha un'origine incerta nel senso che hanno avanzato alcune ipotesi alcuni cronisti del 1800 gli storici del tempo ecco e supponevano che fosse derivato dal nome da un nome Longobarde in quanto fu zona di invasione Longobarde e significasse campo delle oche ed è l'ipotesi più bosco delle oche l'ipotesi più probabile in quanto altre ipotesi erano riferite alla genscansia che pare fosse situata in quelle zone ecco però l'ipotesi più accreditate è quella di un'origine o anche solo romana come Acarius Campus in quanto alcune denominazioni quali valle di Guazzaloca e via Guazzaloca sono ancora attuali quindi è proprio l'ipotesi che ritengo più probabile tu hai parlato di un castello una costruzione precedente alla costruzione della chiesa se non ho capito male ecco qual è stata la causa della distruzione di questo castello e a chi apparteneva? il castello apparteneva al comune di Bologna fu lui a volerlo e in seguito anche a distruggerlo per motivi sempre politici nel senso che periodo storico fu circa fatto fortificare nel 1200 e fatto distruggere nel 1337 in quanto qualche anno prima un abitante di Gazzanico aveva ucciso per sempre ragioni politiche il capitano del castello di Medicina e il capitano era praticamente il rappresentante del governo di Bologna all'interno delle loro varie sedi dei loro varie castelli di conseguenza questo atto per Bologna fu veramente un atto da punire e la pena che fu data a Gazzanico fu quella massima e dai documenti viene detto che fu ordinato di adeguarlo al suolo e questo infatti fu un fatto pare che anche la chiesa ad essa annessa fosse andata bruciata anche essa nella stessa momento in cui fu distrutto il castello ad adeguarlo al suolo teorettamente dunque nel 1786 furono redati alcuni capitoli sulla partecipanza di Gazzanico e Medicina questi capitoli furono redatti per modificare quelli già esistenti del 1681 e adattarli ai tempi ricorrenti ci puoi parlare un po' di questa partecipanza agraria? Sì fu la forma è la forma proprio più antica di comunione e di messa in comune dei beni del territorio fu un po' dovuta alla necessità di visto che erano come ho già detto in precedenza zone paludose e la necessità prevalente era quella di riuscire a renderle coltivabili fu creata questa in periodo medievale questa comunione dei beni ossia venivano suddivise le terre fra gli abitanti della zona inizialmente vi erano tre partecipanze una per Gazzanico una per Medicina una per Villa Fontana in seguito appunto quella del 1700 troviamo Gazzanico unita a Medicina invece Villa Fontana mantenne una partecipanza a sé e praticamente tutti coloro che risiedevano in questi territori avevano diritto ad avere un appezzamento di terra più o meno gli appezzamenti avevano la stessa dimensione quindi non vi erano differenziazioni tra chi possedeva un appezzamento o chi ne possedeva uno a fianco ecco in quanto i terreni erano il più possibile resi regolari però poi c'erano alcuni vincoli molto molto forti tipo bisognava essere residenti in zona almeno da sei anni essere maggiorenni cioè almeno più di ventun'anni persone degne di fiducia di rispetto perché il terreno andava fatto fruttificare non andava lasciato andare in rovina ecco quindi occorrevano delle persone di fiducia questo però era la forma più antica come dicevo che abbiamo trovato di comunione dei beni era un bellissimo esempio di di socialismo e la cosa interessante che salta all'occhio leggendo i capitoli della partecipanza è che molti proprio chiedevano di poter partecipare a questo a questa partecipanza appunto vi erano molte richieste infatti c'erano addirittura furono istituiti alcuni giudici appositi per verificare l'interesse della persona che veniva a richiedere l'appezzamento di terra addirittura alcuni si trasferivano da Bologna per poter avere questi terreni quindi quella zona diventava un esempio anche per Bologna che era a Bologna non succedevano queste cose che tu sai alcuni da quello che almeno appare dai documenti appunto pare che la gente si trasferisse a volte anche solo per ottenere la terra poi magari ritornavano in città proprio perché era un fatto molto importante per allora poter avere anche solo questo piccolo appezzamento di terra si molto attuale anche se ci pensi sarebbe bello per ciò che riguarda la giurisdizione ecclesiastica com'era posto Ganzanigo ecco Ganzanigo fu sempre sotto la giurisdizione di Bologna in questo senso come un po' forse ho cercato di accennare in precedenza dopo il crollo dell'impero romano Bologna prese il sopravvento insomma il governo di tutti i territori adesso limitrofi solo che per determinati periodi andando avendo problemi interni non riusciva comunque a curare il controllo sulle zone esterne alla città pertanto le zone esterne erano periodi un po' di destabilizzazione invece dal punto di vista ecclesiastico la situazione rimase tale infatti fu quella che diede quella sorta di stabilità a tutte le terre esterne al comune di Bologna perché dava un caposaldo un punto fermo in tutto questo andirivieni del comune di Bologna ecco vi erano chiese sul territorio sì le cinque chiese a cui accennavo precedentemente Santa Maria San Giacomo Santa Croce e San Michele vennero distrutte per quale motivo? Santa Maria sembra che fosse distrutta nella distorsione del castello che fosse andata distrutta in realtà in realtà poi compare anche nei documenti successivi negli estimi ecclesiastici successivi pertanto ritengo che non andò distrutta ma probabilmente fu solo danneggiata delle altre chiese San Giacomo Santa Croce e San Giovanni non si sa praticamente nulla man mano scompaiono dagli estimi e tranne Santa Croce che fu l'ultima a scomparire e ancora adesso esiste un podere Santa Croce probabilmente in ricordo di questa chiesa che c'era precedentemente San Michele appunto come ho detto in precedenza invece cambiò la cosa che magari era interessante conoscere era il fatto che su un territorio così che sembra rilevante la presenza di cinque chiese salta subito all'occhio e questo è dovuto al fatto che appunto essendo zona paludosa il avere più chiese sul territorio permetteva ai fedeli di potersi avvicinare al culto che altrimenti non avrebbero molti non avrebbero avuto nemmeno la possibilità di poter frequentare le celebrazioni che cos'erano le confraternite? erano associazioni cattoliche cristiane che si proponevano sotto un determinato statuto e avevano un determinato scopo molte di queste furono fondate in Gazzanigo furono veramente molto molto fiorenti e le più antiche risalgono al 1600 alla fine del 1600 una di queste è ancora attiva in Gazzanigo dal 1700 in avanti crebbero veramente a dismisura e si proponevano uno scopo molte di queste per esempio erano dedicate alle ragazze alle fanciulle o alle madri e questo è un aspetto molto interessante perché ritenevano da quanto si legge dagli statuti che la donna fosse il nucleo fondamentale della famiglia allora proprio per questo necessitava di maggiore cura e di maggiore attenzione da parte del gruppo parrocchiale perché era un po' essendo caposaldo della famiglia era quella che era intenta alla cura dei figli a farli crescere perciò venne dato particolarmente spazio alla donna in queste associazioni infatti molti di loro erano Santa Dorotea Sant'Anna Madri Cristiane erano tutte proprio i tre quarti dedicate alle ragazze è una mia impressione o a quei tempi la chiesa era molto più vicina alla gente o comunque si occupava applicava in maniera un pochettino più rigorosa quello che è il messaggio cristiano un giudizio non saprei esprimerlo sicuramente mi ha colpito molto questa attenzione alle in particolare ecco alle ragazze in un periodo storico nel quale questa attenzione non mi sembrava che ci fosse dal punto di vista anche solo sociale o politico ecco sicuramente mi ha molto colpito allora per quale ragione è stata distrutta ed edificata una nuova chiesa cento anni fa cento anni fa sì perché la chiesa precedente quella benedettina un antico monastero benedettino stava cadendo in rovina fu tentato più volte la ristrutturazione ma non non era servita a nulla in quanto le spese erano veramente forti e fino a arrivare al punto massimo in cui la chiesa era veramente pericolante a quel punto fu decisa la distruzione totale della chiesa e la riedificazione di una nuova più grande e anche adeguata alla situazione attuale infatti fu cambiata la direzione della chiesa precedentemente era rivolta verso ovest dopodiché fu rivolta verso sud perché era rivolta verso ovest quando era ancora monastero? perché questo dipendeva dal fatto che i frati erano per secondo la loro regola dovevano ogni mattina leggere l'ufficio di lettura e questo accadeva sulle 5 e mezza in un periodo nel quale la luce elettrica non c'era dovevano per forza prendere luce dalle finestre di conseguenza era rivolta verso est perché permetteva essendoci una finestra un rosone sull'abside praticamente verso est permetteva ai frati di poter svolgere le loro funzioni religiose anche a quell'ora a livello sociale è ancora così attiva la comunità di Gazzanigo la comunità intendo quella che gira intorno alla parrocchia civile o cattolica civile e cattolica civile sì la comunità civile è rimasta comunque molto attiva anche attualmente insomma è molto attiva la comunità parrocchiale diciamo che c'è abbastanza impegno sicuramente si è molto ridotto l'associazionismo adesso è ridotto ad un'unica associazione e cerca comunque di dare particolare attenzione attualmente alla crescita dei fanciulli e in questa diciamo in questa fase sociale particolare attenzione della comunità è rivolta verso i fanciulli anche se devo dire che un ultimo sviluppo è l'attenzione alle famiglie della parrocchia e non della parrocchia ma interagisce con la società civile oppure sono due due canali comportamentali o ideologici differenti che non si incontrano che vanno sul doppio binario no c'è uno sforzo una tensione verso anche un'apertura verso la comunità civile insomma una comunità quali ragioni hanno portato alle diatribe il comune di medicina e la parrocchia di ganzanigo vi sono state delle diatribe tra il comune e la parrocchia no? si nel periodo della costruzione della chiesa attuale in quanto il comune di medicina faccio un passo indietro il parroco di ganzanigo chiedeva fondi al comune di medicina e in vari luoghi andava a bussare praticamente a tutte le porte possibili per poter ottenere i fondi per la costruzione della chiesa e le diatribe maggiori tra il comune di medicina e il parroco furono dovute dal fatto che il comune non voleva versare nessun tipo di contributo in quanto asseriva che il nostro la nostra chiesa dipendesse da Bologna viceversa il capitolo di Bologna diceva che dipendeva da medicina di conseguenza vi furono una sorta di passa di passa parola e non non si riusciva comunque a trovare era una sorta di patata bollente in qualche modo anche perché i soldi erano richiesti erano veramente tanti per cui ovviamente ma come si è risolta parte chiese il parroco si dede molto da fare a cercare fondi da parte di banche da parte di associazioni chiese a tutti gli abitanti di Ganzanigo i quali si dettero molto molto da fare si prodigarono proprio se dal punto di vista concreto e in questo devo asserire che anche nell'ultima ristrutturazione molto gli abitanti di Ganzanigo si sono prodigati per poter portare avanti anche le ristrutturazioni con le minore spese così anche in passato e si sono molto prodigati dando la loro mano d'opera gratuitamente per poter far sì che la chiesa potesse essere edificata è una comunità comunque molto coesa rimane una comunità quanti abitanti conta a Ganzanigo attualmente più di 1200 perché c'è stato un aumento demografico e anche un ripopolamento dovuto a nuove costruzioni quindi da Bologna molti si sono trasseriti il fenomeno dell'immigrazione come è vissuto a Ganzanigo esiste come fenomeno oppure no e come è vissuto secondo te con un po' di chiusura essendo anche un paese rurale si avverte molto questa coesione come dicevi precedentemente ma c'è anche l'aspetto del timore verso il nuovo verso ciò che viene dall'esterno ecco un po' di timore di fondo c'è si percepisce quale materiale sacro antico viene ancora custodito nella parrocchia che mi sembra almeno dalle immagini che Silvano Piazzi ci ha proposto mi sembra che ci siano delle ci sia del materiale bellissimo dentro a questa parrocchia sì alcune le cose più interessanti sicuramente sono il quadro di San Michele che fu dipinto da un allievo del Guidoreni ed è posto di fronte sull'altare maggiore ed è una tela setticentesca e parimenti la statuetta di San Michele Arcangelo in terracotta che quella è posta nella facciata esterna alla chiesa e c'è anche un organo sempre dei gentili fatto ristrutturare da poco anche quello settecentesco un altare in legno sempre del periodo di quel periodo insomma 1700 primi anni del 1800 e anche questo che ora vedi sono i misteri del rosario attorno e la statua della Madonna sono ancora più antichi in quanto sono dovuti al voto fatto anche dalla comunità di Ganzanigo alla Madonna nel 1630 in occasione della peste l'anno in cui vi fu la peste in tutta Europa anche Ganzanigo non rimase in mone di conseguenza fu creato appunto fu costituito questo altare ed era presente sia nella chiesa vecchia quella appartenuta al monastero e anche in questa sono stati riportati nella nuova chiesa sono in ottime condizioni tra l'altro sono stati fatti tutti ristrutturare di recente con il supporto anche devo dire della comunità civile di Ganzanigo quindi il desiderio della comunità di Ganzanigo è anche quella di promuovere un pochettino non diciamo il turismo ma se non altro la messa in mostra di questo piccolo tesoro che avete a disposizione e quindi sponsorizzarlo un pochettino affinché magari tutti noi possiamo godere di questa cosa meravigliosa che comunque rimane a livello di turismo a livello di affluenza alla chiesa come siamo messi cioè è abbastanza reclamizzata è conosciuta come chiesa sì abbastanza in quanto come comunità siamo molto aperti anche alla diocesi e quindi a tutte le iniziative proposte dalla diocesi cambi scuola per i ragazzi sempre appunto nell'ottica che dicevamo precedentemente di dare una sana educazione dai bambini ai giovani ecco e quindi in questa ottica tutte le proposte che vengono fatte da Bologna vengono accolte molto volentieri e di conseguenza c'è anche un ritorno di conoscenza della nostra comunità inizio dei lavori per la costruzione della nuova chiesa parliamo di cent'anni fa dovuta al parroco l'allora parroco don Antonio Cavina ecco tu hai detto ci sono state le difficoltà per poter raccogliere il denaro insomma che potesse essere destinato in questo senso eccetera ma sono iniziati sfarzosamente sono iniziati con grandi festeggiamenti oppure come sono iniziati con grandi fatiche con grandi fatiche con grandi fatiche molto molto graduali non ci fu un inizio eclatante e soprattutto anche perché fu molto come rilevava l'altro autore del il professor Samogia il problema anche che sorse fu del disegno una volta stabilito della costruzione di partire con la costruzione di questa nuova chiesa era necessaria anche una supervisione da parte di un ingegnere e di un geometra e il giallo diciamo che a cui di fronte al quale si è trovato il mio collega era che non abbiamo trovato disegni reali della della chiesa in quanto il parroco iniziò dicendo che la chiesa si doveva fare con grandi decisioni e con grosse fatiche perché una scelta del genere per quel tempo era veramente grossa e importante e andò sentì ci furono i primi i primi disegni da parte di un ingegnere venne qui a Bologna a chiedere a questo ingegnere dopo di che si fermò tutto e non si sa come continuarono come proseguirono tutti quanti i lavori sappiamo solamente che la chiesa alla fine fu ritrovata è stata ritrovata in questo stato e con questa facciata soprattutto perché la facciata rispetto all'interno della chiesa sono molto di stili diversi questo perché a quanto suggeriva il professor Samoggia probabilmente fu lo stesso parroco a condurre dopo i lavori e portò avanti i lavori con il geometra non fu supportato da nessun architetto e da nessun ingegnere un po' probabilmente per una questione economica appunto e un po' anche perché voleva un po' portare avanti i lavori come mi pareva a lui come desiderava a lui che altro c'è che altro offre Ganzanigo da questa bellissima chiesa ecco questo una gran tranquillità una gran pace perché è ancora un paese proprio di campagna con questi campi verdeggianti soprattutto in questo periodo di primavera meravigliosi sicuramente una gran serenità perché di altri altre strutture altri edifici di particolare rilevanza e purtroppo a Ganzanigo non ne sono rimasti altri ecco quindi la bellezza e la pace del paesaggio insomma quello assolutamente vi invitiamo tutti a venire a trovare volentieri grazie Silvia grazie a tutti